con questo video vi mostro il progetto che realizzeremo insieme ad abilmente si tratta di un mini album con le copertine in legno insieme coloriremo la parte che state incisa utilizzeremo le carte in edizione limitata dell'italia scrapper pride del mini pad 6x6 all'interno del vostro kit inoltre troverete tutti gli elementi per decorare le vostre pagine non vi resta altro che scegliere le foto e cominciare a raccontare le cose la vostra storia ci vediamo ad abilmente 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 ciao 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 ciao